ciao a tutti amiche di uncinetto oggi in questo video vi mostro come realizzare questa bellissima borsa io l'ho pensata per il periodo estivo infatti ho realizzato questo punto che come vedete alterna dei punti chiusi a questo punto traforato veramente molto bello è una borsa molto grande molto capiente si può utilizzare con all'interno ad esempio una pochette oppure se volete potete foderarla e inserire qui un bottone a calamita è veramente molto bella come vedete per quanto riguarda i manici sono lavorati sempre ad uncinetto vi farò vedere come realizzarli in questo modo sono molto resistenti e anche molto belli da vedere io spero che questo progetto vi piaccia vi dico anche le misure della borsa si tratta di una borsa che ha una larghezza di circa 36 centimetri mentre invece per quanto riguarda l'altezza io l'ho fatta di circa 32 centimetri io spero che questo progetto vi piaccia se è così lasciatemi un bel pollice in su vi ricordo che potete seguirmi anche sugli altri social quindi instagram facebook o anche un canale telegram vi lascio tutti i link di riferimento giù in descrizione ma adesso partiamo subito dai materiali per realizzare questo progetto userò questo filato di ofelia italy che si chiama mini cotton cord qui abbiamo la rocca che è di 250 grammi per 200 metri e si tratta di un cento per cento cotone riciclato qui si consiglia l'uso di ferri dal 5 al 6 dell'uncinetto invece si consiglia il numero 5 io ho scelto questa bellissima tonalità di verde è un verde erba veramente molto bello e acceso che ha il codice colore 0 18 questo è un filato perfetto per realizzare tantissimi lavori ad esempio possiamo lavorarlo con la tecnica del macramè oppure possiamo lavorarlo ad uncinetto per realizzare ad esempio borse cestini sottopiatti e tanto altro ancora è un filato al tatto morbido regolare ed è flessibile vi faccio vedere anche un'altra variante colore che trovate nel sito di ofelia italy c'è anche il beige che ha il codice colore 003 all'interno del sito troverete anche altri colori avete un totale di ben 12 colori io naturalmente vi lascio in descrizione il link sia al sito ofelia italy e sia questo prodotto come vedete questi due colori si abbinano anche molto bene insieme io non so ancora se realizzerò la borsa tutta in verde oppure in due colori per questo progetto userò l'uncinetto del 4 e mezzo poi ci occorrerà qualche segnapunti e infine occorre anche un ago da lana con la cruna un po più grande con l'uncinetto del 4 e mezzo avvio un totale di 12 catenelle faccio il nodino iniziale tiro in questo modo e lavoro 12 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 per un totale di 12 dopo aver fatto 12 catenelle faccio una catenella aggiuntiva a questo punto vado a lavorare a maglie basse salto la catenella quella più vicina all'uncinetto vado in quella successiva e lavoro una maglia bassa lavoro a maglie basse in questo modo facendo una maglia bassa per ogni catenella sottostante per un totale di 12 maglie basse facciamo il secondo giro per prima cosa giro il mio lavoro e salgo facendo una catenella poi lavoro una maglia bassa nella prima maglia bassa che mi ritrovo quindi qui lavoro poi una maglia bassa per ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse a questo punto per andare avanti nel lavoro non ci resta che ripetere il secondo giro giriamo sempre il lavoro si sale con una catenella e si lavora a maglie basse sempre per un totale di 12 maglie basse quindi lavoro la prima maglia bassa qui nel primo punto disponibile e poi vado avanti in questo modo ogni fila deve essere sempre di 12 maglie basse si gira il lavoro si sale facendo una catenella e si lavora in giri di andata e di ritorno fino a realizzare la grandezza che ci serve per la nostra base per il nostro fondo alla fine io ho fatto un totale di 35 giri di andata e di ritorno per una larghezza io mi ritrovo con circa 9 cm di larghezza mentre invece la base a una lunghezza di circa 25 cm e mi fermo qua a questo punto vado a lavorare qualche giro di perimetro e poi cambio il punto quindi io mi trovo qui dopo aver fatto i 35 giri vedete qua ho fatto l'ultima maglia bassa quindi questo il trentacinquesimo giro e ho fatto qui l'ultima maglia bassa entrò nello stesso punto e vado a lavorare altri due punti bassi quindi qua creo un angolo e faccio altri due punti bassi 1 e 2 quindi ho un aumento di tre punti bassi il primo punto basso quindi questo lo segno in questo modo quindi qua vedete ci sono tre punti bassi poi giro vado a lavorare qui nel lato più lungo e vado a lavorare a maglie basse quindi entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa per ogni punto quindi vado qui e lavoro una maglia bassa qua nel punto successivo una maglia bassa poi entro qua e continuo in questo modo a lavorare una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare qui vediamo qui poi come lavorare sono arrivata alla fine di questo lato più lungo entro quindi qua nell'ultimo punto e lavoro anche qui tre maglie basse quindi come ho fatto qui anche qui alla fine lavoro tre maglie basse all'interno dello stesso punto quindi due e tre in questo modo quindi qua ho le mie tre maglie basse 1 2 e 3 si riconoscono potete mettere magari anche un segnapunti qua sulla prima delle tre e poi si va avanti come abbiamo visto anche in precedenza quindi vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante soltanto negli angoli faccio tre maglie basse quindi qua faccio una maglia bassa per ogni punto arrivata qui nell'ultima maglia anche qui lavoro tre maglie basse nello stesso punto di base poi vado da quest'altro lato e lavoro una maglia bassa per ogni punto e qui lavoro di nuovo l'angolo facendo tre maglie basse ci vediamo poi qui alla fine da quest'altro lato sono arrivata alla fine del giro ho fatto tutto il perimetro a maglie basse e nei quattro angoli ho lavorato tre maglie basse tutto in un solo punto come vedete anche qui qua lascio il segnapunti perché mi serve per ricordare proprio l'inizio di ogni giro adesso vado a lavorare qualche giro a maglia bassa senza chiudere il giro quindi lavorerò a spirale quindi entro qui nel punto successivo e faccio una maglia bassa entro anche qui dove si trova il segnapunti e lavoro una maglia bassa vado nel punto successivo e faccio sempre una maglia bassa quindi non lavoro più l'angolo con tre maglie basse ma faccio soltanto una maglia bassa per ogni punto sottostante quindi lavoro a spirale a maglie basse per qualche giro quindi andate avanti in questo modo facendo una maglia passa per ogni punto sottostante senza chiudere il giro quindi io vado avanti in questo modo anche qui dove si trovano tre maglie tutto in un solo punto lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante anche qui e vado avanti senza chiudere il giro quindi lavorando a spirale per qualche giro alla fine ho fatto un totale di quattro giri a maglie basse lavorando a spirale nell'ultimo giro che andate a realizzare dovete aggiustare il multiplo quindi contate tutte le maglie basse e aggiustate il multiplo occorre un multiplo di 4 per andare a realizzare il motivo che vedremo a breve quindi qui nell'ultimo giro io ho aggiustato il multiplo perché mi serviva proprio un numero divisibile per 4 contate tutti i punti aggiustate questo multiplo a questo punto vi faccio vedere come fare la chiusura invisibile io ho fatto l'ultima maglia bassa qui ho tagliato il filo e inserisco un ago da lana e andiamo a chiudere in questo modo qui c'è la maglia bassa qua o il punto successivo con due asoline io salto questo punto vado in quello che viene subito dopo e inserisco lago prendendo entrambe le asoline e tiro leggermente quindi in questo modo poi torno indietro vado qui al centro vedete qui nell'ultima maglia bassa che ho realizzato invece di prendere entrambe le asoline vado al centro qui della maglia e tiro di nuovo con lago tiro per bene come vedete si crea questa asolina che rende il lavoro più pulito quindi si è formata questa asolina sul punto in basso le maglie sono sempre le stesse ma abbiamo creato questa asolina come vedete il lavoro è più pulito vado poi qui nel retro a nascondere il filo facendo qualche punto tirate sempre per bene il lavoro e poi nel retro vado a nascondere il filo quindi date qualche punto qui nel retro passiamo al punto fantasia io inizio da uno dei lati più corti quindi inizio da qui entro con l'uncinetto l'uncinetto è sempre del quattro e mezzo entrò in una delle maglie e salgo facendo 3 catenelle quindi 1 2 e 3 catenelle queste 3 catenelle sostituiscono una maglia alta poi lavoro una maglia alta nel punto successivo quindi qui faccio 2 catenelle di separazione 1 e 2 catenelle poi salto due punti di base 1 e 2 vado qui nel terzo e lavoro 2 maglie alte una maglia alta per ogni punto sottostante quindi rivediamo ho fatto 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta una maglia alta nel punto successivo 2 catenelle di separazione ho saltato due punti di base e sono andata nel terzo punto e ho fatto due maglie alte quindi andiamo avanti sempre con questa sequenza faccio 2 catenelle di separazione salto due punti di base vado qui nel successivo il lavoro 2 maglie alte 1 maglia alta per ogni punto sottostante quindi questo è il mio motivo andiamo avanti di nuovo 2 catenelle di separazione salto due punti di base quindi salto 1 salto 2 vado qui nel terzo lavoro 2 maglie alte quindi una e due maglie alte di nuovo 2 catenelle di separazione 1 e 2 salto due punti di base vado qui nel terzo e lavoro 2 maglie alte una maglia alta per ogni punto sottostante quindi andate avanti sempre con questa sequenza fino alla fine del giro quindi 2 catenelle si saltano due punti di base si va qui nel terzo e si fanno due maglie alte una maglia alta per ogni punto sottostante lavorate per tutto il perimetro e poi ci vediamo qui alla fine per chiudere il giro sono arrivata alla fine del giro con questo punto fantasia ho fatto le due maglie alte realizzo 2 catenelle salto due punti di base e chiudo il giro facendo una maglia bassissima qui sulla terza catenella in questo modo adesso realizzo un giro a maglie basse io mi trovo qui quindi ho fatto la maglia bassissima sulla terza catenella lungo leggermente la solina rientro nella stessa catenella e lavoro una maglia bassa poi faccio una maglia bassa qui su questa maglia alta qua invece si trova lo spazio delle due catenelle entro e faccio due maglie basse poi qui sulle maglie alte lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante e vado avanti sempre in questo modo qui nello spazio più grande lavoro due maglie basse e qui invece dove si trovano le due maglie alte vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante quindi andate avanti sempre in questo modo e poi ci vediamo qui per chiudere il giro sono arrivata qui alla fine di questo giro a maglie basse entro nella prima maglia che ho realizzato la prima maglia bassa che ho fatto e faccio una maglia bassissima per chiudere il giro adesso farò qualche altro giro a maglie basse e poi riprendo il motivo traforato io mi trovo qui tiro un po la solina e rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa potete anche mettere un segnapunti per ricordarvi che questo è il primo punto basso che avete realizzato quindi magari mettiamo un segnapunti qui e poi si va avanti nel lavoro quindi vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante io vado avanti a maglie basse e poi vi dico quanti giri ho fatto naturalmente ogni giro chiudo facendo una maglia bassissima alla fine ho fatto un totale di tre giri di maglie basse a questo punto vado a ripetere di nuovo il giro traforato quindi io mi trovo qui ho chiuso facendo una maglia bassissima e adesso vado a lavorare questo giro traforato quindi per prima cosa salgo facendo 3 catenelle 1 2 e 3 in questo caso queste catenelle sostituiscono una maglia alta poi lavoro una maglia alta nel punto successivo e faccio 2 catenelle di separazione salto due punti di base vado qui nel punto successivo e lavoro 2 maglie alte 1 e 2 maglie alte quindi ripeto il motivo che si trova qui in basso come vedete faccio 2 catenelle di separazione salto due punti di base vado qui nel terzo punto e lavoro 2 maglie alte 1 e 2 quindi andate avanti sempre con questo motivo e poi vediamo alla fine come si chiude questo giro arrivata alla fine del giro ho fatto le due catenelle di separazione salto due punti di base chiudo il giro qui nella terza catenella facendo una maglia bassissima dopo aver fatto questo giro con il punto traforato ripeto di nuovo i tre giri a maglie basse quindi questi sono i giri che vado ad alternare un giro con questo punto traforato e tre giri di maglie basse quindi adesso faccio inizio di nuovo a fare il giro di maglie basse allungo la solina in questo modo e rientro nello stesso punto di base e faccio la prima maglia bassa vado poi a lavorare una maglia bassa per ogni punto quindi qua sulla maglia alta lavoro una maglia bassa qui nello spazio di 2 catenelle faccio 2 maglie basse qui si trovano le maglie alte e lavoro una maglia bassa per ogni punto quindi una maglia bassa qui sulla maglia alta e un'altra maglia bassa nel punto successivo mi ritrovo di nuovo qui nello spazio più grande e faccio 2 maglie basse quindi si va avanti sempre in questo modo facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante arrivati qui alla fine faccio una maglia bassissima qui sulla prima maglia bassa che ho realizzato in questo modo vado a fare tre giri di maglie basse quindi alterno i giri in questo modo farò tre giri di maglie basse e un giro di punto traforato adesso vado avanti nel lavoro e poi vi dico quanti giri ho realizzato come vedete sono andata avanti nella lavorazione e ho alternato in questo modo i giri partendo da qui dove si trova vedete il giro con il punto traforato ho fatto poi i tre giri di maglie basse di nuovo il giro con il punto traforato tre giri di maglie basse di nuovo quello traforato e quindi sono andata avanti in questo modo sempre con il verde per un totale di 9 cm in altezza partendo appunto dal giro traforato poi ho cambiato colore utilizzando il beige e ho fatto il motivo delle tre maglie basse vedete facendo tre giri di maglie basse di nuovo il motivo traforato e poi sono andata ad alternare ancora il verde sempre con questi due motivi di nuovo il beige poi ho alternato il verde e poi mi sono fermata con questi tre giri di maglie basse per me l'altezza della borsa va bene partendo qui dal fondo io mi ritrovo con un'altezza della borsa di circa 33 cm per me questa altezza va bene se voi volete potete fare qualche giro in più oppure vi fermate con l'altezza che ho fatto io a questo punto dobbiamo realizzare i manici che vengono fatti sempre ad uncinetto per prima cosa io sono andata a prendere il centro della borsa e poi con questi segnapunti sono andata appunto a mettere sia da un lato che da quest'altro lato le stesse maglie partendo da qui da questo segnapunti fino a questo del lato opposto io ho segnato un totale di 30 maglie basse e qui andrò a fare il manico che parte da qui poi si fanno delle catenelle e arriva da quest'altro lato poi vi dico naturalmente tutto il procedimento la stessa cosa l'ho fatta anche dal lato opposto quindi si prende il centro di metà della borsa e poi facciamo le stesse maglie da un lato e dall'altro e anche qui ho 30 maglie basse quindi andrò a realizzare il manico partendo dalle catenelle volanti e poi faremo altri giri per completare il nostro manico quindi a questo punto vediamo come riavviare il lavoro e fare il manico della nostra borsa come vedete io mi trovo qua ho fatto tre giri di maglie basse qui mi trovo nell'ultimo giro di maglie basse prima di avviare il manico chiudo qui nella prima maglia bassa del terzo giro facendo una maglia bassissima avvio quindi un altro giro a lungo la solina rientro nello stesso punto di base e lavoro una maglia bassa naturalmente questa maglia bassa la vado a segnare per ricordarmi che questa è la prima del giro che sto facendo in questo momento e poi vado avanti a maglie basse facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare qui nel primo segnapunti sono arrivata qui dove si trova il primo segnapunti e lavoro qua una maglia bassa adesso inizio a fare le mie catenelle quindi vado a lavorare tante catenelle a seconda della grandezza che mi serve del mio manico quindi vado avanti in questo modo poi vi dico quante catenelle ho realizzato alla fine ho fatto un totale di 60 catenelle vado qui nell'ultimo segnapunti e vado a lavorare una maglia bassa quindi entro qui e lavoro una maglia bassa questo è lo spazio del manico che abbastanza grande per portare la borsa a spalla a questo punto vado avanti a maglie basse quindi qui nel punto successivo faccio una maglia bassa e faccio una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare appunto dal lato opposto per fare di nuovo le catenelle sono arrivata dal lato opposto tolgo il segnapunti e lavoro qui una maglia bassa poi faccio un totale di 60 catenelle volanti dopo aver fatto le 60 catenelle volanti vado qui nel nell'ultimo segnapunti e lo tolgo vado a lavorare qui una maglia bassa poi lavoro a maglie basse facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante e arrivo dove si trova questo segnapunti qua e l'inizio appunto del giro arrivo qui e faccio una maglia bassissima per chiudere il giro quindi sono arrivata qui tolgo il mio segnapunti vado qui nella prima maglia bassa di questo giro e faccio una maglia bassissima adesso inizio il prossimo giro allungo leggermente la solina rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa metto sempre il segnapunti sulla prima maglia bassa di ogni giro e vado di nuovo avanti e faccio questo giro vado a fare una maglia bassa per ogni punto sottostante in questo modo poi vediamo una volta che siamo arrivati qui vicino alla catenella come lavorare ho fatto tutte le maglie basse mi trovo qui dove si trova l'inizio della catenella entro nella prima catenella e lavoro una maglia bassa vado a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante quindi andate avanti in questo modo lavorando una maglia bassa per ogni catenella sottostante dopo aver lavorato le maglie basse su tutto il manico sono arrivata qui alla fine inizio di nuovo a lavorare una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante in questo modo vado avanti in questo modo lavorando in circolare arrivo qui faccio qui l'ultima maglia bassa e inizio a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante quindi ripetiamo questa lavorazione e poi ci vediamo qui alla fine di questo giro chiudo questo giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro che ho realizzato quindi vado qui e faccio una maglia bassissima adesso inizio l'ultimo giro per prima cosa tiro un po la soli nel rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa metto sempre un segna punti e faccio una maglia bassa per ogni punto e arrivo qui vicino alla parte appunto del manico sono arrivata qui questa è la parte del manico ho fatto l'ultima maglia bassa qui adesso entro qui nello spazio e faccio una maglia bassa e lavoro facendo maglie basse per tutto il manico vengono delle maglie basse allungate che rendono il manico più bello e danno anche più resistenza quindi vado a lavorare queste maglie basse allungate per tutto il manico quindi andate avanti in questo modo facendo queste maglie basse allungate per tutto il manico fino ad arrivare qui poi naturalmente qui vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante arrivata qui dove si trova la parte del manico lavoro sempre in questo modo con questa maglia bassa allungata quindi lavoro in questo modo ci vediamo poi alla fine per chiudere il giro sono arrivata alla fine di tutto il giro dopo aver ripreso anche i manici sono arrivata qui ho tagliato il filo tiro e utilizzo un ago da lana e vi faccio vedere come fare la chiusura invisibile quindi io mi trovo qui questa è l'ultima maglia bassa che ho realizzato e questa invece è la prima del giro quindi questa è l'ultima che ho fatto e questa è la prima del giro io con lago vado qui quindi salto questa maglia bassa vado qui in quella successiva prendendo tutte e due le asoline e tiro poi tiro un pochettino rientro qui al centro questa è la l'ultima che ho fatto rientro però qui al centro in questo modo e con lago anche qui vado a tirare tiro per bene e come vedete si forma questa asolina quindi il lavoro come vedete viene più pulito ed è molto più bello perché si va a creare questa asolina adesso vado a nascondere nel retro questa codina e poi vi faccio vedere la borsa finita come vedete questa è la borsa terminata io la adoro la trovo veramente molto bella e particolare perfetta per il periodo estivo come vedete i manici risultano veramente molto belli e resistenti per quanto riguarda il consumo del filato io ho utilizzato una rocca di questo cordino verde poi ho utilizzato una rocca del beige e questo è quello che mi ha avanzato della rocca intera se vi interessa il mio stesso filato vi lascio in descrizione il link per poterlo acquistare inoltre in descrizione troverete anche il peso della borsa quindi quanti grammi ho utilizzato di questo filato prima di lasciarvi vi ricordo che potete seguirmi anche sugli altri miei social quindi su facebook instagram o anche un gruppo facebook e inoltre ho anche un canale telegram vi lascio naturalmente in descrizione tutti i link di riferimento naturalmente vi invito anche per chi non l'avessi ancora fatto ad iscriversi al mio canale youtube cliccando su iscriviti e sulla campanella e noi naturalmente ci vediamo alla prossima ciao